Iberia, il volo 771 per Madrid sarà allargato dall'uscita 41 al Fideconata, Iberia, il volo 771, l'uscita 41. Iberia, il volo 771 per Madrid, ultimo destro game number 41, esterno game 40, Iberia, il volo 771, game 41. Non, non lo so, è il volo 77, non lo so, è il volo 77, non lo so.